Crapani in azione, rulli e pennelli in mano e tanta voglia di ripartire. Dalla Sassogna, l'Arzilla di Fano, i gestori e gli operai sono al lavoro per ristrutturare e sistemare gli stabilimenti. Non ancora fissati i paletti degli ombrelloni, ma in spiaggia si va spediti per finire in tempo tutti gli interventi di manutenzione. Noi già è un po' che siamo qui e che pistiamo la spiaggia, per comunque essere pronti, perché date definitive non ce ne sono, ma anche le modalità, anche se il nostro Presidente di Regione sembra confermato che ci sia l'accettazione possibile già dai primi di maggio, si sa che comunque la stagione arriverà prima di tutti col caldo, perché effettivamente anche oggi se si guarda la giornata, parlare di estate è ancora difficile, però per non trovarci impreparati abbiamo iniziato tutti i lavori, in modo che comunque i primi di maggio già se si viene a fare una passeggiata al mare, siamo piuttosto pronti. I clienti hanno già iniziato a prenotare? Fortunatamente sì, la voglia di mare è tanta, già da diversi mesi, e credo che anche tutti gli altri colleghi abbiano la stessa euforia delle prenotazioni. Siete ottimisti anche voi? Guardandomi intorno, devo dire che la stagione estiva, se tutto va come più o meno a specchio del 2020, dovrebbe più o meno andare bene. Ci siamo spostati all'Arzilla, vediamo le sue spalle, Nicola, delle dune di sabbia, al lavoro anche qua. Al lavoro, dal primo di marzo abbiamo ricominciato a sistemare la nostra spiaggia, a pulire la sabbia, a fare dei nuovi lavori, delle novità per la nostra clientela, speriamo che piaceranno anche quest'anno e fiduciosi, al lavoro. Pensate sia una buona cosa riaprire da maggio? Allora, secondo me mettere l'apertura il primo maggio potrebbe essere rischioso, sia per noi che per le persone, quindi aprire anche a scaglioni forse sarebbe meglio, però prima ci lasciano liberi e più sono contento anche io, ecco. Solo di evitare le masse di gente e poi magari puntare il dito contro le attività spiagge e bar che non fanno rispettare le distanze. Invece i prezzi in rialzo oppure stabili? I prezzi l'anno scorso non li abbiamo toccati di un euro, quindi quest'anno abbiamo aggiustato qualcosina, viste le tante novità, ma parliamo di 10, 15, 20 euro, quindi niente di significativo. In linea di massima siete fiduciosi? Sempre, ottimisti, super ottimisti, mi dispiace molto per i colleghi invernali, parliamo di montagne, baite, ristoranti e bar, secondo me non ci si è comportati bene con loro, con le categorie, però io come spiaggia sono ottimista e potesse andare come l'anno scorso ci metterei sicuramente la firma.